Ciao a tutti e benvenuti qui sul mio canale YouTube Sono Lorenzo Cozzarini e nel video di oggi voglio mostrare come giocare reggae sul piano Il suono che uso per giocare reggae non è un piano tradizionale ma uso un organo tradizionale classico di reggae ora vediamo il patto Il patto è il patto e ora ho giocato questo patto con il reggae Loop A presto 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 A presto